Ad un anno dall'installazione in piazza Belvedere della statua a grandezza naturale dedicata a Franco Battiato e Lucio Dalla, Milo torna a celebrare i due indimenticati artisti con un concerto-evento che si è tenuto ieri sera al teatro Lucio Dalla di Milo, il tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla, premio caro amico Ti vengo a cercare, organizzato dalla Proloco di Milo con il patrocinio del Comune, dell'Assemblea regionale siciliana, dell'Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo e dell'UMPLI, Unione nazionale Proloco d'Italia. Presente la cantautrice dal timbro vocale inconfondibile Dolce Nera. Decisamente sì, dopo un anno dall'installazione della statua nella piazza Belvedere era d'obbligo continuare in questa esperienza con questo evento. Ovviamente il nostro intendo è quello di istituzionalizzarlo e quindi di ripetere ogni anno e ogni anno premiare una persona che si è particolarmente contraddistinta nel rappresentare l'Etna e Milo nel mondo. E quest'anno premeremo una persona di assoluto spessore, che è il Fugo Cavaliere Giuseppe Benatti. Avete scelto Dolce Nera quest'anno? Sì, una voce pop, rock. Io l'ho conosciuta di presenza, non la conoscevo, una ragazza veramente in gamba, una grande professionista che cura tutto nei minimi dettagli. Veramente un bel personaggio.